Bentornati! Allora oggi faccio questo breve video per ringraziarvi perché il canale è arrivato ai 6.000 iscritti. Forse potreste chiedervi perché l'ho fatto ai 6.000 e non l'ho fatto ai 5.000, come dire che come cifra era un po' più tonda. C'è una ragione e ora se avete un attimo di pazienza e di interesse ve la spiego. Allora come sapete il canale allo scorso agosto è arrivato ai 1.000 iscritti. 1.000 iscritti è un traguardo importante per un canale YouTube, innanzitutto è una soglia psicologica perché comunque vuol dire che un certo numero di persone abbastanza consistente è interessato a quello che dici. Mi rendo conto che sui numeri di YouTube un canale di 1.000 iscritti è un canale piccolissimo, sapete YouTube ha canali con decine, centinaia o qualcuno addirittura milioni di iscritti. Però un canale comunque nuovo che parla di musica, spesso di musica classica o lirica, insomma non è esattamente credo una cosa mainstream che possa mai avere milioni e milioni di iscritti. Per cui sono i primi 1.000 iscritti e sono stati per me una grande soddisfazione, anche perché immaginatevi, diciamo 1.000 si sembrano pochi perché confrontate i milioni di YouTube, ma voi immaginatevi, 1.000 iscritti sono un teatro pieno, un teatro pieno di persone che ascoltano quotidianamente o meno quotidianamente quello che hai da dire sull'argomento musica. Quindi non è un risultato da poco secondo me. E poi come forse sapete i mili iscritti e un tot numero di ore di visualizzazione consentono un canale di essere monetizzato e quindi al titolare del canale arrivano piccola quantità, piccolissima ve lo assicuro, di soldi dalla pubblicità e da una serie di altre attività collaterali. Però come dire, è più una cosa formale, più una cosa di principio, che però fa piacere perché, insomma, si vede un piccolo riconoscimento dell'attività che si è fatta. Dopodiché, siccome quando sono arrivati ai 1.000 iscritti ero contento, ma ho visto che il canale continuava a crescere. Eravamo praticamente i primi di settembre e vedo che il canale continuava a crescere. Allora mi sono detto, beh, sarebbe bello, siamo a settembre, sarebbe bello se entro fine anno si arrivasse ai 2.000 iscritti. Quindi raddoppiassimo il numero di adesso, che già fino a poche settimane prima mi sembrava difficile da raggiungere. E a dicembre, a fine dicembre, siamo arrivati quasi a 3.000 iscritti. Quindi il triplo rispetto al doppio che io avevo preventivato e auspicato e vaticinato per certi versi. Quindi i primi di gennaio siamo arrivati a 3.000 iscritti. E 3.000 iscritti, ho detto, porca miseria. È stato, come dire, un'esplosione del canale, ripeto, nei miei piccoli numeri, che non mi aspettavo e che poi fondamentalmente fa di te un drogato. E attenzione, perché sei sempre lì a controllare. Ah, vediamo, ho scritto 3 iscritti. Se uno si disiscrive, ti fa male il cuore. Dici, no, perché sei disiscritto questo qua? Ecco, insomma, diventi un po' un drogato. Anzi, poi devi imparare a non fare, come ho fatto io per settimane a settimane, che ogni dieci minuti andiamo a controllare se qualcuno si è riscritto di nuovo, insomma, che poi diventa una schiavitù, diventa una dipendenza anche quella. Ecco. Per cui cosa è successo? A gennaio ho detto, bene, come obiettivo al 2024, sarebbe bello raddoppiare questo già risultato, questo risultato già per me straordinario che ho ottenuto con i 3.000 iscritti, quindi arrivare a 6.000 iscritti. E ai 6.000 iscritti ci siamo arrivati oggi, come potete vedere qua sotto. Quindi parecchi, parecchi mesi prima di quanto avevo preventivato. E questa cosa adesso va gestita, perché sul canale ovviamente ha tante persone che lo seguono e quindi questo implica per me un grande senso di responsabilità nei confronti di coloro che hanno deciso, bontà loro, che ho delle cose interessanti da ascoltare. Però questa cosa comporta naturalmente un grande lavoro e che sento anche come dovere, anche per ringraziare tutte le tante persone che mi seguono. Ovviamente bisogna sempre pensare anche al futuro. Diciamo allora adesso qual è il prossimo obiettivo? E siccome, come vi ho detto, poi diventi un drogato e pensi che il canale possa espandersi all'infinito, in realtà non sarà così, lo so benissimo, a un certo punto esaurirò la quantità di persone che possono essere interessate a quello che dico e quindi la crescita del canale si fermerà. Però io credo che ci sia ancora magine, per cui diciamo che nella mia illusione mi piacerebbe che il canale arrivasse entro la fine del 2004 ai 10.000 iscritti. Cosa che mi creerà anche un problema particolare perché quando avevo fatto i 1.000 iscritti mio figlio mi aveva detto Ah, ma papà, sei uno youtuber? E io ho detto, ma non scherziamo, ma qual è youtuber d'Egitto? Mica, fai youtuber, 1.000 iscritti, figuri, sono ancora pochi. Anche se dentro di me io pensavo che fossero tantissime, sono così per schernirmi un po' e per calmare un po' i suoi entusiasmi. Mi dice, ma 1.000 iscritti, figurati, che youtuber. E allora lui mi disse, mi aveva detto, insomma, ma vabbè, Allora, a quanti iscritti ti considereresti un youtuber? E io lì, con 1.000 iscritti, ho sparato una cifra che in quel momento mi sembrava irraggiungibile. Allora, almeno 10.000. Forse mi avrei fatto meglio dire un milione, ecco, insomma. Ecco, quindi se arriviamo invece a 10.000, oltretutto sarò costretto, quantomeno davanti al mio figlio, a definirmi uno youtuber, cosa che ho sempre, fino ad oggi, stigmatizzato ed evitato accuratamente di fare, insomma. Però questo breve video era fondamentalmente per ringraziarvi tutti, 6.000 e anche qualcuno in più ormai, e per sperare che quello che faccio sia sempre di vostro interesse. Come sempre sapete sempre che vi stimolo a darmi i suggerimenti che io cerco sempre di seguire, ma adesso siete veramente tanti. A me arrivano decine e decine di richieste di video da fare e insomma cerco di trattarli anche, ovviamente, nei limiti e all'interno di quella che è la mia editoriale che mi sono andato al canale. Ovviamente non posso non ringraziare in particolare le persone che al canale si sono abbonate e che quindi danno un contributo anche fattivo alla crescita dello stesso e al sostentamento dello stesso, insomma, cosa che mi permette comunque di migliorare, per esempio, le attrezzature, di migliorare le camere e insomma di cercare di fare in modo che la qualità dei miei video sia sempre, spero, accettabile. Per cui tante, tante, tante grazie. Non farò altri video, almeno fino ai 10.000, non so se ci arriveremo mai, però diciamo che se arrivassi ai 10.000 entro dicembre, entro il 31 dicembre del 2024 sarei soddisfatto. Voi dal vostro canto, se avete piacere, potete condividere questo canale con le persone che conoscete che potenzialmente potrebbero essere interessate agli argomenti di cui trattiamo. Grazie, grazie, grazie.